Ben ritrovati e ben ritrovati su In Genere Horror, io sono sempre Greg e do un benvenuto anche a tutti i nuovi spettatori che per la prima volta vedono il mio video. Date una sbirciata al mio canale, carico contenuti su recensioni che riguardano novità, il cinema, spettaforme streaming, ma anche video riguardanti film del passato più o meno recente, calde, capolavori ed è proprio di un film del passato, dei gloriosi anni 80 italiani che voglio parlare in questo video. Si tratta della Chiesa di Michele Suavi, 1989 prodotto da Dario Argento. Questo film, la Chiesa, dà la possibilità a Michele Suavi di dirigere un film con un cast, con una truppa cinematografica di ben altro spessore rispetto al piccolo film, la piccola produzione che ha decretato il suo clamoroso e incredibile esordio con Deliria e qui Michele Suavi ha la possibilità di lavorare, diciamo, con una produzione medio-grande. La Chiesa doveva essere Demoni 3, è una storia magari conosciuta agli appassionati, a quelli soprattutto di vecchia data, però diciamo che i retroscena sono parecchi, li sintetizzo abbastanza brevemente. Doveva essere Demoni 3, perché? Perché Dario Argento, che aveva prodotto il primo Demoni e il secondo, due film che avevano riscosso un notevole successo, soprattutto all'estero. Ricordiamo che Demoni, il primo, grazie alle vendite negli Stati Uniti e in Giappone, già con quelle vendite era andato ben oltre i costi di produzione e già si cominciava a guadagnare. Poi ci furono tutti gli altri incassi, compreso quelli in sala in Italia, che furono notevoli e quindi va da sé che Demoni 2 era già stato messo in cantiere finché Demoni, quando Demoni era appena uscito in sala. E perché no? Bisognava proseguire, si poteva proseguire con la storia andando avanti con Demoni 3. Da lì però cominciarono un po' di problemi. Primo fra tutti l'utilizzo del titolo Demoni. Per un cambio di casa di produzione Dario Argento non poteva riprendere e proporre il titolo Demoni 3, si doveva cambiare. La sceneggiatura però era sostanzialmente già pronta, o meglio il soggetto c'era e la sceneggiatura cominciava ad essere scritta. Soggetto firmato e scritto da Lamberto Bava e sceneggiatura già messa su carta da Dardano Sacchetti. Si parlava di questo terzo capitolo dove l'idea di base era quella, inizialmente doveva essere quella di un aereo che precipitava in una landa deserta e all'interno dell'aereo scoppiava l'epidemia dei Demoni. Per una difficoltà, per le notevoli difficoltà poi di poter realizzare un film di quel tipo, con un certo tipo di costi che dovevano essere abbastanza contenuti all'interno di un aereo, si era passato a pensare a tutta altra storia. Quella che i Demoni, dopo che erano usciti dallo schermo cinematografico nel primo, dai televisori, dai tv nel secondo, a questo punto nel terzo capitolo dovevano uscire dai libri. Ecco che l'idea di base parte proprio da una pergamena, da degli scritti dai quali poi nascevano questi Demoni. E da un prologo, che era quello con dei cavalieri teutonici che andavano in un paese, in un villaggio nel Medioevo, che sembrava un covo di streghe, lì fanno mattanza, uccidono tutti, uomini, persone, donne, animali, bambini, sotterrano tutto e costruiscono, coprono quello che poteva essere un'epidemia, un'invasione demoniaca, la coprono con la calce e con una croce e costruendoci sopra una cattedrale. Da lì poi doveva svilupparsi il resto del film, appunto, di Demoni 3. Problemi legati al titolo, si optò quindi per un titolo molto suggestivo che venne in mente all'Alberto Bava, che fu proprio La Chiesa. Da lì però le strade di L'Alberto Bava e di Dario Argento si separarono perché all'Alberto Bava cominciavano ad arrivare notevoli e tante proposte televisive. Da lì farà tanti film per la tv, dai quattro film prodotti per Mediaset fino a Fantaghiro, eccetera, eccetera. Quindi perché però non proseguire questo film che ormai cominciava a chiamarsi La Chiesa? Ecco che allora viene scelto di comune accordo un nome che era molto in voga in quel periodo, il nome di Michele Suavi, che già con deliria aveva dato prova di essere un regista di grandissimo talento. Il soggetto di base è quello e la sceneggiatura poi si sviluppa in maniera diversa. Dardano Sacchetti l'aveva proposta, però abbandonato il progetto dell'Alberto Bava, la sceneggiatura da Dardano Sacchetti passa a Franco Ferrini, che la rivede, la rivisita, la riscrive insieme a Dario Argento, anche grazie all'intervento di Michele Suavi. Insomma diciamo che tutta questa rivisitazione, il cambio del titolo, che doveva essere una cosa, cambiato poi nella Chiesa, cambiando poi il tipo di film, cambiando un po' quello che doveva essere e non poteva più essere la semplice infezione e fuoriuscita dei demoni, quelli famosi di Stivaletti che avevamo visto nei primi due capitoli. C'è sempre Stivaletti e il suo contributo è notevole anche qui, ma cambiano un po' le raffigurazioni di questi demoni, benché vengano citati anche nel film La Chiesa. Diciamo che poi, partendo dal prologo, che è quello che ho appena citato ed era uguale a quello che era previsto per Demoni 3, si passa ai giorni nostri, amministrati agli anni 80 ovviamente, e vediamo questa cattedrale che è stata costruita sopra questa fossa dove era stato sepolto tutta quella che era l'ipidemia demoniaca del maligno che stava fuoriuscendo, vediamo come i protagonisti della vicenda gira attorno ad un bibliotecario che viene assunto per la biblioteca della cattedrale, una archeologa, loro faranno copia fissa, poi una serie di altri personaggi, sia i preti, i sacerdoti, i sacrestani all'interno della chiesa, una giovanissima Asia Argento figlia di un sacrestano, insomma altri personaggi che faranno vista, una modella e il servizio fotografico che dovranno fare all'interno, una città scolastica. Per un motivo accidentalmente verranno bloccati, o meglio il bibliotecario accidentalmente, incautamente, farà scattare un meccanismo di chiusura di questa chiesa che era prevista per non far uscire il maligno qualora si fosse scatenato nuovamente, i personaggi rimangono all'interno e quindi si ripropone un po' la situazione che avevamo già vista nel cinema di Demoni 1, nel palazzo tecnologico bloccato dove tutti erano bloccati all'interno in Demoni 2 e qui in maniera molto suggestiva chiusi dentro a una chiesa. Diciamo che quello che era il soggetto di Lamberto Bava, la sceneggiatura di Dardano Sacchetti, che non sono accreditati, viene riproposto, diciamo in maniera diversa e rivisitata, ma di fatto viene riscritto parte di quello che era già stato previsto. Tra l'altro Lamberto Bava e Dardano Sacchetti ci rimangono un po' per non essere stati perlomeno accreditati come coautori di soggetto e sceneggiatura. Tanto che la chiesa, firmata e diretta comunque da Michele Soavi, prodotto da Dario Argento, risulta scritto da Ferrini, Michele Soavi e Dario Argento. È un film che ha fatto epoca perché uno degli ultimi esempi di cinema e di un certo produzione horror degli anni Ottanta, da lì andrà tutto un po' scemando, anche se è vero che Michele Soavi aveva la possibilità di dirigere la setta e soprattutto quello che è l'ultima grande produzione horror, se vogliamo, di un certo tipo, cioè della morte e dell'amore, nella prima metà degli anni Novanta. Ma qui siamo ancora, non dico nel pieno degli anni Ottanta, ma ancora ci si può esprimere. Ancora c'è la possibilità di lavorare con un certo budget. Certo è che, partendo da un progetto che era iniziato, doveva essere Demoni 3, cambiato in La Chiesa, cambiato poi in fase di sceneggiatura, scritta e riscritta più volte, in mano a Michele Soavi, che aveva un grande pregio, quello, e ha un grande pregio, quello di essere molto attento ai dettagli, ai particolari. Quindi, per la prima volta, trovandosi davanti a un certo tipo di produzione che poteva dare sfogo, libero sfogo, a quella che è il suo talento, ma al tempo stesso davanti a dei costi che stavano aumentando sempre più, soprattutto per le settimane che andavano e che proseguivano di lavorazione che stavano aumentando sempre di più. Quindi diciamo che una sceneggiatura rivisitata, tempi di produzione un po' allungati e un budget che doveva mantenere e contenere i costi, diciamo che questo ha fatto sì che La Chiesa non sia diventato quello che poteva essere un vero e proprio capolavoro, poteva essere un altro film della grandezza di Demoni che di fatto è a suo modo considerabile un piccolo gioiello, un piccolo capolavoro di produzione, di genere horror di un certo tipo. Ma ne ho già parlato in un altro video dedicato a Demoni e magari ne parlerò, ne parleremo in altre occasioni. Diciamo che La Chiesa riesce ad essere un grandissimo film nonostante qualche difficoltà legato soprattutto a dove si doveva girare gli interni. Gli interni sono girati veramente all'interno di una cattedrale, di una chiesa, ma in Ungheria. Ai tempi Ungheria consentiva, perlomeno in quel periodo, di poter filmare e girare tutto quello che si voleva fare con una truppa cinematografica, con tutti i mezzi che si dovevano portare all'interno, all'interno appunto di una chiesa. Le avevano girate tutte, in Italia, in Svizzera, in Germania. Nessuno dava la possibilità di girare un film con una truppa cinematografica, tra l'altro bella corposa, attori, casta tecnico, casta artistico e tutta la strumentazione e gli effetti speciali che si volevano fare anche sul posto. E diciamo che l'unica chiesa che erano usciti a trovare è stata una cattedrale in Ungheria. Tra l'altro molto curioso il fatto che il prete, il parroco di quella chiesa sconsacrava sostanzialmente alla mattina inizio di ripresa della chiesa per poi riconsacrarla alle 18 quando si chiudeva il set fino al giorno successivo. La bellezza di certe immagini, situazioni e sequenze girate all'interno di una vera e propria chiesa. Poi ci si è spostati a Cinecittà per fare alcune scene in cui si doveva danneggiare parte della chiesa, utilizzare effetti speciali come l'uscita di quel bellissimo effetto speciale di quel ammasso di corpi che è appunto la creatura di Sergio Stivaletti che anche lì avrebbe potuto fare qualcosa di ancora più enorme, ancora più mastodontico, ancora più di impatto visivo, ma chiaro, gli effetti speciali avrebbero fatto lievitare ancora di più i costi di un film che, ripeto, aveva una buona produzione, un buon budget di base, ma diciamo si rischiava di andare veramente oltre. Ecco perché la chiesa è effettivamente un film cult che rimane, ma poteva essere molto di più. Poteva essere molto di più grazie alla possibilità a un budget che se fosse stato più cospicuo avrebbe dato massima espressione e massima possibilità di esprimersi a Sergio Stivaletti perché gli effetti speciali in questo film sono tutti fatti ovviamente senza l'uso della computer grafica, senza l'uso di mezzi tecnologici, ma tutto fatto a mano, grandissimi effetti, ancora una volta di Sergio Stivaletti, molto efficaci, diciamo che riesce a dare una connotazione ancora più efficace a un horror che fa il suo, che ha dei problemi di sceneggiatura in alcuni momenti. Soprattutto la prima parte del film si distacca dalla seconda. La prima parte ha delle conseguenze in base a quello che si vede nella scena precedente. Ci sono delle conseguenzialità tra una scena e l'altra che si vedono. Dalla seconda parte in poi la sceneggiatura sembra fatta un po' segmentata perché non c'è più una conseguenza, una conseguenzialità tale che potrebbe mandare fuori pista anche lo spettatore che vorrebbe una storia più lineare, ma che di fatto rende ancora più interessante, rende ancora più misterioso, più d'atmosfera un film che è pienamente di Michele Suavi e lo si vede. Come ho detto, un regista che va a cogliere il dettaglio che al torno del dettaglio costruisce tutta la storia. I dettagli ce ne sono tantissimi. Dettagli di particolari in situazioni che, narrativamente parlando, staccano l'attenzione dello spettatore. Ma è proprio quello che già si era visto. È lo stile ed è la sintonia che aveva Michele Suavi anche con Dario Argento. Come non ricordare Inferno. Tra l'altro, il legame con Inferno c'è per la presenza di Feodor Shagliapin, ad esempio, che fa Il Sacrestano, un attore con uno sguardo talmente penetrante, una figura talmente importante, imponente, davanti alla macchina e appresa un grandissimo attore che è famoso per aver interpretato un ruolo conosciutissimo nel nome della Rosa, ma appunto famoso anche per aver interpretato Varelli in Inferno di Dario Argento. E con Inferno di Dario Argento si ha questa sorta di continuità nel senso che qui c'è una, nella seconda parte del film c'è una sceneggiatura che non è più a servizio di una storia lineare e interpretata da una regia fatta di dettagli e di situazioni e dettagli e situazioni ce ne sono tantissimi in questo film legati non solo agli effetti speciali a delle musiche bellissime tra l'altro meravigliose anche queste nonostante anche qui ci sono state delle notevoli delle notevole difficoltà. Le musiche inizialmente dovranno essere date a Kate Emerson che infatti un brano di Kate Emerson lo troviamo nel prologo ma poi tutto il resto non poteva essere utilizzato quel tipo di musica andava bene solamente per il prologo stando alle idee del regista e anche di Dario Argento sia suavi che Argento erano in sintonia su questo concetto quindi furono anche ingaggiati i Goblin che in parte firmarono la colonna sonora ma furono anche acquistati due pezzi di Philip Glass quindi ci sono due meravigliosi pezzi all'interno di musica così imponente che riesce ad essere imponente all'interno di una situazione come quella di una cattedrale veramente molto interessante quindi tante cose da ricordare in questo film scene oniriche che si staccano che riescono a staccarsi da una narrazione che non è più così così lineare basta pensare ai bambini che in un certo punto esausti all'interno della chiesa i personaggi sono tutti esausti i bambini che sembrano essere lì stanchi ma al tempo stesso ridono ridacchiano sono già impossessati sono folli sono incoscienti è la stanchezza mista a quella ingenuità e innocenza dei bambini è inquietante ed è molto poetica quella situazione giocano tra l'altro a fare il cavallo che è quel cavallo che ogni tanto scalpita e si sente ed è un elemento molto interessante all'interno del film che ripropone il passato un passato che torna anche con il personaggio di Asi Argento che sa tutta la storia che la troviamo nel prologo e la troviamo anche nella storia ai giorni nostri nel presente quindi ci sono delle situazioni non spiegate perché è giusto che non vengano spiegate ma che danno quel mistero in un film che di mistero ne ha e che riesce a svilupparlo all'interno di una grandissima regia ripeto di Michele Soave che va oltre quelle che sono state le difficoltà di una sceneggiatura che ha avuto i problemi che ho detto una produzione che cominciava ad avere i problemi che ho detto perché le settimane di lavorazioni cominciavano ad essere ad essere tante però il film è riuscito ed è riuscito era grande ed è un grande esempio di cinema horror che si colloca all'interno di questi magici meravigliosi anni 80 ed è il seguito vero a livello produttivo dei primi due demoni un film tra l'altro che poi ha un bellissimo finale che è stato aggiunto successivamente perché è un finale che diciamo un po' aperto molto bello con questo sguardo della piccola Asia Argento che vede quello che c'è al di là e che si chiude con una sorta di piccolo sorriso accennato è un bellissimo taglio finale anche questo del film chi non se lo ricorda chi non dovesse ricordarsi del film lo deve assolutamente rivedere recuperare lo si trova in versioni DVD in dettaglio metterò se c'è anche la possibilità di vederlo in piattaforma streaming vado a vedere e vi do tutto in dettaglio in descrizione del video dove poter vedere il film un cinema che non si fa più un cinema che magari è anche molto ambizioso perché vediamo dei rimandi ad altri grandi titoli ad altri grandi capolavori come per esempio il signore del male perché si attinge da lì o addirittura a Rosemary's Baby scene e sequenze uniriche come quelle appunto dell'incontro della protagonista con questo con questo demone con questo diavolo che le si avvicina questa figura demoniaca i due personaggi i due vecchietti all'interno di una situazione che diventa ironica perché sono due vecchietti che poi vedremo come riusciranno troveranno il modo per riuscire a suonare una campana per attirare l'attenzione di chi è fuori in cerca di aiuto aiuto che non avverrà ovviamente dall'esterno personaggi che in maniera frammentaria ma ognuno ha una micro una mini avventura all'interno del film come per esempio i due ragazzi che cercano una via d'uscita e che scavano sotto e trovano poi quello che troveranno sotto nei sotterrani in parte di cunicoli sotterrani della chiesa non so se ho parlato di tutto quello di cui bisognerebbe parlare di questo film spero di aver citato un po' tutto spero di aver fatto un piccolo riassunto di quello che è un grandissimo film da riscoprire ditemi la vostra cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti i nostri spettatori